Sì, benvenuti in questo nuovissimo video in cui andremo a VISIUMNAR Un nuovissimo video trash, ma di quel trash che abbiamo visto praticamente già tutta la famiglia in pratica Vediamo se riescono a capire di chi sto parlando Prima di cominciare mi raccomando in descrizione trovate il link della My Pagina Facebook Andate subito a mettere un bellissimo mi piace Tempestate di like questo video come sempre E in descrizione trovate anche il link del mio profilo ufficiale di Instagram DORIANBIUFFICIALE Andate a cliccare il tasto segui e stalkeratemi anche lì E sempre nella descrizione trovate il link delle mie magliette ufficiali E il video che andremmo a visionare oggi si chiama La moglie di Enrico Pasquale Praticò No, ma la moglie di Enrico Pasquale Praticò, sì, ci credo Via Ciao, Enrico Pasquale Praticò Ciao La moglie, cioè questa è la moglie Sono Giovanna, detta Giovannona Coscialunga, Giovannona Coscialunga Te lo sei mai visto sto film? Giovannona Coscialunga, è epico E ho appena visto il tuo video su YouTube Ma non è che è una cosa nuova, cioè ha scoperto l'acqua calda raga Quindi tu stai facendo un annuncio d'amore verso Enrico No comment, ma veramente no comment E mi sono innamorata di te Ah, appazzesco Guardami, sono proprio come piace a te E beh, insomma, non tanto, raga, vogliamo sentire un attimo come voleva le donne Enrico? Quelli ragazzi che mi piacciono a me mi piacciono biondi, capelli neri, magri, bellissimi, sex Sono bionda, con i capelli neri Ma anche da tonica nel frattempo, perché se tu ti guardi allo specchio e ti vedi bionda con i capelli neri hai qualche problema alla vista, vattene dall'oculista Magri Eh, sul magri ci siamo Bellissimi e soprattutto sex Oh Cristo E ho il Samsung Galas, proprio come il tuo Sono l'unico deficiente che ha la Huawei P8 Lite qua No, perché tutti hanno sto cazzo di Samsung, Galaxy, Gran Neo Che poi Neo sta per Neo, tipo la macchia che c'hai nella pelle, oppure New, tipo quello dei Pokemon Vedi, siamo nati per stare insieme Ma anche no, c'è senso, va Enrico Pasquale praticò Io vivo a Parigi Ma darei la tour Eiffel Vuoi di poter zappare con te la vigna Perché raga si sa, una zappata di vigna al giorno toglie il medico di torno Chi zappa la vigna campa cent'anni Tanto zappi la vigna al giorno che ci lasci lo zampino Che cazzo sto dicendo io, boh No raga, mi sono rincoglionito anche io, vi devo dire la verità, dai È evidente, dai, è evidente A Motta San Giovanni Quindi Enrico Pasquale praticò Raga, da notare come dice Enrico Pasquale praticò Enrico Pasquale praticò Chiamami Chiamala La puoi trovare tranquillamente in tutte le pubblicità hot che trovi su internet Non appena entri per vederti un film in streaming No, questa era forte, dai, questa era forte Beh ragazzi, questo video trash non aveva un cazzo di senso sto video praticamente Questo video finisce qui e mi raccomando in descrizione trovate tutti i link dei miei social Facebook, Instagram E troverete anche i link delle mie magliette ufficiali E come sempre in ogni video Anche in codesto video la morale è solo una Ciao, Enrico Pasquale praticò Ciao Sono Giovanna, detta Giovannona Io sono Enrico Pasquale praticò E ho appena visto il tuo video su Youtube E mi sono innamorata di te Sono un ragazzo carino E quelli ragazzi che mi piacciono a me mi piacciono biondi I capelli neri Macri Bellissimi Sex Guardami, sono proprio come piace a te Sono bionda Con i capelli neri Magri Bellissimi E soprattutto Sex Io mi cattai per la session 3 Ho il telefono Samsung Galaxy Grand Neo Ho il Samsung Galaxy Proprio come il tuo Vedi, siamo nati per stare insieme Enrico Pasquale praticò Abbott a Motta San Giovanni Io vivo a Parigi Ma darei la tour Eiffel Puoi poter zappare con te la vigna A Motta San Giovanni Lavoro, zappo, a vigna Quindi Enrico Pasquale Praticò Chiamami Trovate a me su pro zap Enrico Pasquale Praticò Il mio numero lo do a Giovanni Zaccuri E così mi trovate voi E su pro fastbook Enrico Pasquale Praticò Con 2T Ciao Voi raga E se non siete ancora iscritti al mio canale Mi raccomando Iscrivetevi al mio canale Cliccando il tasto iscriviti Condividete Commentate Mettete mi piace E guardatevi questi video qua Che vi sto consigliando io Mi raccomando In descrizione a questo video Come in ogni altro mio video Trovate tutti i miei link Di Facebook Di Twitter E di Google Plus